Brutta giornata. Ho avuto una riunione con dei membri della NASA. Che spreco dallo sbarco sulla luna. La mia generazione non ha mai avuto il futuro promesso. Che vuoi dire? 35 anni dopo le macchine e i viaggi aerei sono esattamente come prima. Non abbiamo più nemmeno il concordo. La tecnologia si è fermata. C'è il personal computer. Un sistema per distribuire con più efficienza gossip e pornografia. Ma i miei jet dove sono? E le mie colonie sulla luna? Uno spreco e basta.